Provo a rinvitarlo. Ma mi sentite? Mi senti? Io sì, te? Pure io. Allora? Eh, allora devi leggere ciò che ti scrivono. Ho fatto la puttanella oggi? No, oggi sono stata brava. Ma perché ieri? Sempre. Allora ci sentono. Che cosa? Adesso ci sentono. Ah, è vero che ci sentono. Eh, comprate app di polla se non ci senti tu. Allora, che belli che siete, belli. Poi? Amore, sta una seduta al tavolo di fronte a me. Guarda la faccia, sembra dei ringhia. Oh, Cristian. Oh, bravo. Insomma, ciao. Ciao. Dì, che sei felice. Vissati. Vorrei una piega gratis. Eh? Vorrei una piega gratis. La piega gratis. La facciamo la piega gratis. La piega gratis. Dai, mettiamo in piccolini. Amore, hai preso tutto dal cobra, hai preso? Sì. Sì. Gratis? Gratis. Amore, stasera da... Siamo qua a mangiare. Eh? Praticamente, se tu c'hai tipo 100.000 follower, qua mangi gratis. Ma io ho fatto una tavolata di 20 persone. Eh, ma... Beh, tu c'hai un milione. Punto. E gli altri dieci, ma vediamo come fare. Saluta un po' di persone. Eh? Magari fanno finta di andare fuori a fumare e se ne vanno. Mo' io l'avviso. I tuoi fan vorrebbero una gioia da te. Una gioia? In che senso? Che gioia? Mi saluti? Ciao, sacco. Ragazzi, io non è che posso sempre fare il pagliaccio. Ho cambiato di carattere. Adesso c'è un principio di famiglia. Capito? C'è un principio di spinta di carrozzella, qua. Non direi che sei incinta. No. Il principio di spinta di carrozzella è che sta facendo un po' troppo l'aspirizzazione, ci spezzo le gambe. E veramente, capito? Ma io veramente sto a casa. Ciao, Rosy. Ciao, le bimbe di Lollo e Cla. Saluta le bimbe di Claudia. Ciao, le bimbe di Claudia. Ma tu ti rendi conto a 28 anni che fine che hai fatto tu? Che sei con il piede in una fossa, sai? Perché? Eh? Perché? Amore, stanno 28.600 persone che ci stanno seguendo. E ti hanno scritto che sembri che è cozzalone, quindi io c'avevo ragione. Amore, abbiamo scattato il livello, abbiamo scattato la famosità. Comunque io saluterei pure le bimbe di Riccardi perché loro si amano. Cioè, fanno delle cose proprio... Eh sì, le bimbe di Riccardi sono delle ottime persone. Salutiamo la The One. Salutiamo la The One Celebrity. La new agency. Ma che fai con questo occhiale? Su, 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 su. De Miracolo. È vero, puttanella mia. Ma monto dai termini, perché non è che sta moglie te, eh? Vabbè, amore, perché alla fine sono solo 29.400 persone che ci stanno sentendo. Eh, ma come si salva la diretta? Eh, alla fine della diretta ti chiedono la vuoi salvare? Tu dici sì. Ah, sì, vorrebbero la scena del vaffanculo. Cioè, vorrebbero la scena del vaffanculo. Ma quali dei tanti, ragazzi? Quali dei tanti, perché io ne ho detti parecchi? Facciamo prima dire quelli che non ne hai detto. Eh, infatti. Eh, 30.400, amore, sta la famosità. Ci vogliono bene. Ci vogliono bene, abbiamo scattato il livello, amore. Ragazzi, se volete... Ciao, Alessandra. Aspetta, amore, che sta da guadagnare qualche soldo, che lo dobbiamo dare in vacanza. Ragazzi, se volete acquistare questo occhiale, or 18 karati, io naturalmente non l'ho pagato, me l'hanno regalato. Alla tina sta un ottico. Guarda che bello. Questo è veramente un ottimo occhiale. Io naturalmente non l'ho pagato. l'ho pagato, come tutto quello che ho addosso, diciamo. Amo, dire tu come si chiama il negozio, amore. Rita Curinga. Rita Curinga. Non è che devi dire come si chiama il negozio, bruciata. Se facendo pubblicità, non negozio. Hai capito quanti soldi ci danno, che li farebbe? ripeti il nome. Il tuo ragazzo è un coglione, ma te lo stai segnalando? Quella ruota, clà. Amore, sentite che... Ma lo so, guarda, io ce l'ho scelto apposta. Sì, amore, ma va bene? Sì, è andato con lo zoppo, si impara a zoppicare, ma voglio... Eh, fra poco non cammini più, eh. Ma a Madù non cammini più. Amore mio, sta l'amore, sta. Ma sta l'amore. mancanza. Sì, sta la mancanza. Ti dà. Ma che è la vita. Oh, sta la mancanza. Sta la mancanza, ma è. Ma che si fa gli occhiolini quando non ti crede nessuno? Dai, no, è... In che senso? In che senso? Che sa una di farlo conoscerò. Amore, non l'ascoltare a questo, che non è... Mi vediamo. Ciao, Soraya. Ciao? Soraya. Ci è sta Soraya, ma? Eh, ma hai chiesto di salutarla. Sì. Tutti i nomi strani vai a prendere tu? Ti vedo un po' a stare. sfocatezza, stai. La sfocatezza? Adesso, guarda che capello che ho fatto dal parrucchiere come il barbershop. è stato spavento. E' vero? Sipo, 97. Ma chi c'ha in testa un ananas? No, non l'ho pettinato io. Tua madre ha l'ananas in testa. Digglielo, però, non l'ho pettinato io, te lo giuro, i bigodini non glielo ho messi in testa, non volevo. Te lo giuro, non lo ho messo. gli hai messo i becchetti, porco due. Cosa gli ha detto? Gli hai messo i becchetti, porco due, così ha fatto. Ciao, Annalisa. Come ho Annalisa? Come ho? Il quadro, tutti i nomi Sipo. Sipo. Elvis. Dov'altro? Vai? Amore? Sipo. 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 Saluto la Dionizi. Oh, hanno detto se puoi far vedere qualche tuo amichetto. Allora, Lorenzo, comprate un wifi portatile, mamma mia. Allora ragazzi, lui è Cristian, single. Giuseppe. Lui si chiama Cristian, è single, eh? Miliardario. Ciao, Enrica. Non sono miliardario. Lui invece è più miliardario che single. Bravo, più miliardario che single. Guardate che bel ragazzo, biondo, con le nesce. grazie. 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 c'è un sacco di parrucchi, c'è un sacco di parrucchi, eh? Saluto a mio fratello. Sì, buonanotte. Eh? ma che sta fa' che non si sente niente? Sì. 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 Ha capito Hai fatto grossissimo Cioè ma veramente Lorenzo ma comprate un wifi Porco due Sì comunque io sono contenta Della scelta di Luigi perché ha scelto Irene che è una mia amica Ragazzi ma quel cobra Lo sentite? Ma che cosa sta facendo? Ciao Anna Mi senti? Ma Lorenzo parli da solo? Lorenzo Boh ragazzi Cioè io me lo do al gruppo Cioè ma questo Se la Fa tanto il gradasso Poi non c'è una linea che funziona Ciao Gemma Lorenzo ma che linea c'hai? Lei pesa dentro i cereali Porco due Ciao Ciao Asia No io non esco Sta la febbre Sta la stanchezza Quindi non esco Gemma Stai in ritiro Gemma Basta che non esci Con Rocco Basta eh Ma qualche retroscena Della scelta Che non avete visto Beh quando io ho aperto La bustina Con il bigliettino Comunque sono scoppiata a piangere Poi vabbè anche Siamo stati insieme E anche la prima notte Sì Sì Penso che la salvo Ciao Ciao Un bacione Ci siamo uniti come gli avatar Darbo può Darsi Non lo so Se ce lo dovessero proporre Vediamo un po' Ci penseremo Ciao Elissa Le bimbe dei riccanizi Vabbè ragazzi Ciao Ciao Erika Ciao Alex Migliorini Ciao Jasmine Lucia Un bacio Ma Non è che sto seguendo Moltissimo Il nuovo trono Certo Certo Se facciamo una bevuta Quando ci incontriamo Se facciamo una bevuta Da Da Vino non si E Rinuncia mai Ciao Gemma Un bacio Buonanotte Cosa Cosa penso Quando guardo Lorenzo 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 Quando lo guardo Mi perdo Lui è lui Non ce ne Non ce ne sono Altri Come Lorenzo Ciao Manuel Buonanotte Vuoi un Già No Napoletano Di qualche parolina Ma giusto così Sta l'amore Quando lo guarda Eh sì ragazzi Sta l'amore L'amore Non mi aspettavo Di vivere Un'esperienza Del genere Sì a me si vedeva Che ero partita Però Diciamo che sono Una persona Che Esprime Poco I suoi sentimenti Forse gli occhi Parlavano Quindi Da là Si Capivano Molte cose Giulia Una Ragazza Che Comunque Io Stimo La È Molto Intelligente E Come ben Sapete Lei Non ci siamo Mai Attaccate Il Percorso E Quindi Le auguro Il meglio Insomma Sì Ciao papà E La moto Io Tanto Non la guido Tranquillo Sì Ma anche Il cobra È partito Cioè Non è che Sono Innamorata Solo Io Comunque È bello Essere Innamorati Ha preso Il bolo Si è Innamorato Del peloto Perché A me A lui Piace Il calzio Ciao Giorgi Merli Le stalker Di Lorenzo E Claudia Beh Alla fine Se Lorenzo Non mi avesse Scelta Perché Io Non avrei Potuto Ridarmi Una possibilità Alla fine Ci andava A perdere Lui Saluto Bruna Sì Ragazzi La gelosia Sta Anche se Non do Molta Soddisfazione Però Sta La gelosia Che Consiglio Beh L'avresti Dovuta Vedere La scelta Fila La certa No Non l'ho Vista La puntata Ciao Giulia Ciao Rosaria Ciao Miri Giulia È Dolcissima È Bravissima E È Stato Molto Divertente Stare Con Lei Per La scelta Dell'abito Perché Da preso Psicopatica Sì Io Non ho Problemi A Trasferirmi Avete Tutti Delle Pagine Bellissime No Non Lo So Perché Irene Non Abbia Scelto Il Vestito Con La Dell'Hellis Non So Se C'è Qualche Motivo Particolare No Non Abbiamo Un Gruppo Io Il Gruppo Ce l'ho Con Irene E Federica Che Saluto Ma Comunque Ho Visto Anche Luigi Quindi Ci Ho Parlato Ciao Lara Grazie Mille Ciao Sofia Un Bacione A Tutti Lorenzo L'ha Memorizzato Con Con La Scritta Mio E Il Cobra Vicino Lui Ovviamente Ha Scrivito